Ciao, sono Muschio, il folletto ballerino. Ti voglio ricordare che il 18 maggio 2018 uscirà il nuovo album di Jonathan dedicato alle più belle leggende di Lucca, Garfagnana e Versilia. Leggende Lucchesi volume 5 lo potrai trovare nei principali negozi digitali su YouTube e in streaming gratuito su Spotify. Che cosa aspetti? Passaparola e vieni a ballare con me, mi raccomando!